Nella lettura di alcune pagine di Foscolo ci si imbatte in un concetto ricorrente che è relativo alla concezione meccanicistica della realtà. Penso per esempio alla famosa lettera da Ventimiglia in cui Ortis si trova a riflettere sull'alterna vicenda degli uomini ma anche degli imperi e quel moto prepotente delle cose presiede all'alternanza per cui è necessario che i vincitori di oggi siano i vinti di domani. Se l'esperienza dell'uomo è contenuta entro il tempo della sua esistenza e si rinuncia a priori, non si ammette alcuna prospettiva oltre il termine della morte, allora necessariamente in Foscolo affiora il problema della riflessione sulla morte che porta anche a rivedere anche l'impostazione della propria vita, una riflessione sulla propria condizione, sul senso della nostra esperienza. In questo testo la premessa fatta ora può riuscire sicuramente utile perché ci offre una chiave interpretativa. Il poeta dedica questo sonetto alla sera che viene vista come una proiezione del proprio desiderio di approdare ad una serenità e questa serenità coincide con un'espressione molto forte con il nulla eterno che troviamo al centro della prima terzina, ma è una situazione che è già prospettata da quell'aggettivo che campeggia nel primo verso che è fatale. La sera è cara al poeta, infatti dice forse perché della fatal quiete tu sei l'immago, a me si cara vieni o sera. Definisce dunque un rapporto affettivo, il tono pensoso è subito introdotto da quel forse iniziale e la quiete è che stasi non coincide necessariamente con la serenità perché quell'idea di serenità che comunica è attutita e compromessa dalla presenza del fatale che vuol dire voluta dal fatto, ma come per noi nella nostra lingua corrente un malore fatale sta a indicare qualcosa che ha determinato la fine. Tu sei l'immago, quindi la sera è l'immagine della fatale quiete e per questo giunge cara al poeta. E quello che viene introdotto ora a cavallo fra le due quartine è un paesaggio ora lieto, ora sereno e ora invece più tenebroso caratterizzato dalle nuvole che sono condotte nel nevoso aere. E questa ampiezza del ragionamento è affidata ad una struttura in cui si nota l'anafora del e quando. Le due diverse situazioni del paesaggio sono introdotte da una frase temporale preceduta dalla congiunzione. Dapprima ci sono le nubi estive e i zeffiri sereni, quindi la sera è associata ad un'immagine di serenità e poi invece è il momento in cui dal nevoso aere meni all'universo, conduci all'universo, tenebre che sono inquiete e lunghe. Se lavoriamo sul lessico, se osserviamo insieme, possiamo rilevare nella prima parte un cara, un corteggian, nel senso che ti abbracciano, ti fanno da corteggio. Liete c'è un sereni, le nubi sono estive, mentre invece nella seconda quartina abbiamo l'aere nevoso, in riferimento a quell'inquiete che è il contrario di quiete del primo verso, le tenebre sono lunghe ed si estendono a tutto l'universo. Sempre scendi invocata e tieni soavemente, ed è un altro termine che dice della delicatezza ma anche della dolcezza, dell'effetto di dolcezza, di accoglienza che la sera produce nell'animo del poeta, tieni suavemente le secrete vie del mio cor. Dunque due quartine caratterizzate da un respiro piuttosto ampio, in cui la sintassi si snoda e prosegue da una quartina all'altra, in cui il puntello della sintassi del periodo è caratterizzato dall'anafora del e quando e la chiusura sono quelle secrete vie del mio cor che ricordano le secrete cure del testo in morte del fratello Giovanni, ma secrete allude evidentemente e segrete in italiano indica qualcosa che è separato, che è intimo, che è riposto all'interno del proprio cuore. La seconda parte invece è più mossa, nella seconda parte c'è una punteggiatura più fitta e riconosciamo anche un periodare molto più breve. Esplicita la propria situazione psicologica, al centro di queste due terzine abbiamo ritratto quello che è l'animo del poeta e tutta la descrizione paesaggistica esteriore iniziale in realtà sta ad indicare che il poeta quasi necessita di questa possibilità di trovare una quiete, desidera approdare la quiete perché il suo animo, il suo stato d'animo consueto è caratterizzato dal tormento, dallo spirito guerriere che ritroviamo nell'ultimo verso. Vagar mi fai coi miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno. La sera produce questo movimento che i pensieri del poeta si spingono verso le orme sulle tracce che portano al nulla eterno, espressione quasi antitetica o simorica perché il nulla che però è esteso all'intera eternità e nel frattempo fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. Il tempo è un reo tempo perché evidentemente è un tempo vissuto con disagio, è un tempo ostile, sono gli avversi numi del sonetto in morte del fratello Giovanni che appena avevo citato e questo reo tempo per effetto della sera fugge e con esso, con il reo tempo fuggono anche tutte le preoccupazioni, le torme delle cure, cioè le schiere delle cure. Attenzione che scivoliamo dalla prima alla seconda terzina portandoci dietro questa immagine inquietante delle schiere delle preoccupazioni che provocano uno struggimento e il poeta dice che mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerriere che entro mi rugge. La sera rappresenta dunque un momento di pacificazione e questa pacificazione è resa possibile dalla sovrapposizione alla sera dell'immagine della morte che è il nulla eterno, che è la tua pace, tua riferito in modo affettivo alla sera perché è proprio grazie a questa pace raggiunta che può trovare quiete, la quiete del primo verso, qui ripresa nel dorme del penultimo verso, quello spirito guerriere che altro non è che quel senso di perenne insoddisfazione, quello sentirsi perseguitato dal fatto, quella mancanza di armonia che spinge foscolo sempre ad esprimersi in termini fortemente soggettivi, a dar sfogo alla propria inquietudine ma anche alla propria ricerca di un punto di approdo. E dunque l'ultima osservazione vale la pena spenderla per quanto riguarda il sistema delle rime perché è vero che abbiamo le orme che indicano il movimento, che sono in rima con le torme, ma invece dorme è in antitesi, c'è questa antitesi tra il movimento e la stasi e così c'è forte nel miruge che rima con si strugge e ancora prima con fugge, andando all'incontrario, ma tutti i verbi che hanno a che fare con l'impegno, con la sofferenza, con il movimento. Ed è proprio da questa compresenza di termini opposti che il lettore può ricavare da questo testo come il momento della sera come il paesaggio iniziale offra in realtà lo sfondo ideale per una riflessione che è una riflessione non solo letteraria in un testo poetico che è assolutamente apprezzabile ma addirittura una riflessione psicologica ed esistenziale.